15 chili d'oro puro confiscati per un valore di 500 mila euro. Si tratta di una misura che rientra nell'ambito dell'operazione Groupage portata a termine dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Arezzo a partire dal 2016, una tra le più importanti investigazioni condotte negli ultimi anni nel settore del traffico illecito di metalli preziosi. L'oro, infatti, era già stato sequestrato ad uno dei condannati in sede di patteggiamento ed adesso viene definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato e sarà oggetto di vendita all'incanto. L'operazione, che vede oggi lo step della confisca, aveva permesso nel tempo di individuare un sodalizio criminale costituito da italiani ed algerini che operavano nella compravendita di grandi quantitativi di oro in nero prodotti da aziende aretine e poi rivenduti nei paesi del Nord Africa. Complessivamente, l'operazione ha individuato 13 indagati, di cui due arrestati per riciclaggio, riempiego di denaro di provenienza illecita e commercio abusivo di oro, tutti reati aggravati dalla condotta transnazionale.